Allora, vi racconto la storia di questo gioco e vi racconto quello che è successo più o meno ieri sera o almeno quello che abbiamo capito ieri sera, perché io il gioco non è che l'ho finito, non è che lo conosco quindi vi racconto quello che ho visto, quello che penso Allora, questo gioco si chiama Madison Madison però non è solamente il nome del gioco, ma è anche il nome della protagonista di questo gioco su cui è entrato tutto ciò Chi è Madison? Madison è una donna, serial killer, ciao cabre Serial killer di, stai calmo cabre Serial killer di quattro, e dico quattro persone Cosa è successo un giorno? Un giorno è successo che la polizia è riuscita a trovare Madison dove abitava, dove si nascondeva e tutto il resto Però a un certo punto è successa un'altra cosa Che mentre la polizia entrava in casa Per ovviamente arrestare Madison La poliziotta, perché era la poliziotta Trova Madison mentre stava facendo una sorta di rituale satanico Ok? Mentre lei faceva questo rituale satanico Lei viene presa, no? E scappa via Viene colta sul fatto e scappa via Va nel semi interrato e si nasconde là dentro La poliziotta allora inizia a inseguirla E dal salottino in cui era prima Va verso il semi interrato Mossa ovviamente stupida perché ci va da sola E la serial killer ovviamente Cosa succede? Arriva lì Arriva, vede la poliziotta e la aggredisce Quello che noi sappiamo è però che Madison è anche morta Sappiamo che Madison è morta Sappiamo che Madison Lei era stato fatto Un'abeglia diciamo In una chiesa Per la sua morte Noi in questo momento il nostro protagonista è un ragazzo Un ragazzino Un ragazzo sì un ragazzino perché il padre dice Figlio mio che cosa hai combinato E noi iniziamo con questo ragazzo che è chiuso in una stanza Col padre che batte fortissimo alla porta Perché vuole arrivare al figlio E il padre mentre batte alla porta dice Perché l'hai fatto? Perché hai ucciso la mia famiglia? Quindi si però suppono ovviamente che il figlio abbia combinato qualcosa Il figlio scopre Man mano che andiamo avanti nel gioco Che lui in questo momento al suo interno ha un demone Questo demone Cosa gli fa fare? Cose molto brutte Tipo Uccidere Quindi Grazie mamma E quindi cosa succede? Che fondamentalmente adesso noi stiamo cercando un modo Per far andare via questo demone da dentro di noi Ecco Storia raccontata Spero che Spero di essermi fatta capire Spero di avervi raccontato il gioco nella maniera più corretta possibile Ma penso di sì Ecco Questo Ah sì Noi abbiamo una fotocamera Abbiamo una fotocamera Abbiamo una macchina fotografica Che apparteneva al nonno Noi in questo momento siamo a casa di nonno e nonna Abbiamo questa macchina fotografica con cui scattiamo le foto Il problema però è che quando scattiamo le foto Succede qualcosa Ah Grazie mamma Sì la mamma è super patata Mi ha portato la cena Tac Eccola qui Così mangio mentre Tanto la tastiera non mi serve più Quindi si può mandare a fanculata Ok prendo il pad E il mouse lo posso levare pure Ok Mescolo raga Scusate Voglio anche io Allora è praticamente Pasta col sugo E il salsicciotto Si vede il salsicciotto E qua il salsiccio Vabbè è morto E il salsicciotto Grazie Anabim No della salsiccia al sugo buona Ma tipo fatta rosso fa schifo E bello figo Io la salsiccia rosso Ma manciassi in tutti i modi In tutti i laghi Lascia fare Vabbè io però Perché io Sono malata di salsiccia Bello E' proprio malata Malata di salsiccia Ok Ah sì devo cambiare il titolo della live Vero Aspetta Allora la faccio io Faccio io Aspetta Aspetta Allora Eh Horror Night E scrivo Madison Parte 2 Così Quando Mi vado a tagliare i pezzi So già So già come si chiama No Il VIP a Samu No Samu Volevo che te lo vincevi Il VIP Ma vaffanculo Bastardo Volevo che te lo vincessi Allora Allora signori La salsiccia è una favola Lo si ho Toria Carica partita E' questa E' questa vero Avrà salvato Raga io non ho salvato Perché Sì Eravamo qua Giusto Sì Noemi Oddio no Ciao Renata Noi stai sicuro Allora Noi qua ci siamo accorti Di non poter fare nulla Di Abbiamo Abbiamo messo I Ah Non mi ha salvato Tutto Non mi ha Non mi ha salvato Tutto Tutto Ah No 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 Cioè ha salvato Qualcosa Ma non ha Non ha salvato La parte Della madonna Sicuro Ciao Lola Non ha salvato La parte Della madonna Ragazzi Acqua Acqua No la coca cola Mi fa male No no Eri qui Giulia Giulia Io mi ricordo Che mi sono fermato Dove c'era il coso Non qua Mi sono fermato Dove c'era La roba da aprire Non qua Già cambiato Lola F5 Eh vedi Lola Non l'ha salvato Non l'ha salvato Non c'è la madonna Eh vedi Tutto Beh allora Questa parte Non capisco Perché me la deve far rifare Non è Cioè non ha salvato Il gioco Grazie Devil Grazie mille Bentanto per il secondo mese Bisogna rifare tutto Lucy giocherai mai A FNAF Sister Location Sì Però devo prima finire FNAF 4 Grazie mille Per la Re sub Ciao spider Grazie per i bit Cioè mi fanno rifare Questa cosa Porca troia È lungo sto pezzo Mica è corto Mica quanto è alto Martina Grazie mille per i tre mesi Thank you Grazie mille per i tre Grazie ragazzi Per fortuna Già Questa parte L'abbiamo vista Noi Sì comunque ragazzi Il gioco fa paura Quindi se non volete guardarlo Non guardatelo Axel Axel Abbiamo appena iniziato Ed è la parte di ieri sera finale Quindi chi non c'era ieri sera Verso la fine Raga Questa è la parte Buona cena spider Questa è la parte Ok E questa è la stanza col codice Da mettere Dentro la cosa Da posto Siamo tornati Dove eravamo prima Dove eravamo ieri sera Ci sta Il libricino con numero Grazie E Vinny Per il follow Spegnete le luci Guffie Tutto Sì Allora raga Bisogna mettere Bisogna mettere La password qua Ciao schellerina Ciao Colin Bisogna Trovare La password Per questa Per questa Mannaggia Che buona Che buona pasta Cazzo Prendo il quadro Non sapevo io Minchia raga Non mi ha salvato nulla Non mi ha salvato nulla Ciao Volvo Ciao Volvo Nauda Raga Non mi ha salvato Un cazzo Te lo dico io Che non mi ha salvato Un cazzo Meglio così Non ti spaventi Dio Non ti spaventi Un par di ciuffoli Metti le diapositive Ma non erano da mettere Erano da mettere Ah sì Erano da mettere Non le ho mettere Ah allora Questo io ieri Non l'ho fatto Questo io ieri Non l'ho fatto Lord Allora C'è un uomo Su Nonna Ah no È nonna È ancora Pensavo sull'uomo Scusate Papà Ah ok Colle Allora che se fa Per salvare Queste foto Sono piuttosto vecchie Quella chi Chi sono Quelle due Oh A dopo David Aia Vabbè Ha fatto spuntare La madonna In avanti Perché sta canzone Perché sta canzone Stai calmo Questo me lo ricordavo Ciao Ciao crystal Ciao crystal Quella cosa me la ricordavo Perché non si sa Eh lo so Ciao Imagine I quadri I quadri soffitta Quindi non sono Dove le messi Non credo che saranno La Giulia Ora vediamo Bella Beh allora io vado Ciao Ciao io vado Fa stata una buonissima serata Io vado Io corro via Mi faccio una vita Stanza di papà Non ci posso entrare Mi sto cagando Per le luci Sì ma le luci E l'atmosfera I suoni E' tremendo In questo gioco Ciao Vinny Tremendo in questo gioco Ciao Bianca Buonasera Amo i giochi Dell'orrore Fortunato tu Io No per niente Ma proprio guarda Zero 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 Totale Ciao Palloncino In cosa consiste Questo Eh ho spiegato prima Giulia la storia Ciao Aizen L'ho spiegata prima La storia Raga Cioè Evito di rispiegarla Di nuovo Tutta 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 Perché è un po' Lunghetta E' palla Allora I quadri sono messi Perfetto Comunque Lo scopo principale È riuscire a scappare Da qua E liberarci Del nostro demone Raga Ho messo Tutti i quadri Ho messo Tutti i quadri O manca Vuole che metto Per forza Anche il rombo Tranne uno Però In quello De rombo C'è il punto Esclavativo Non è un rombo Comunque È un Tipo Un Pentacolo Consiste nel fatto Che la streamer Si caga Fortissimo Non è vero Sono una brava Ragazza Io Non mi caco Mi cachi Mi caco Eh Magarena Allora Ancora Madonna Non è tornata Eh Sì Sì Devo ascoltare La cassetta Ormai sei sperto Io non mi spavento più Il riservo C'avevo le Le pulsazioni E La pelle d'oca Lascia fare Lascia fare Questo gioco Fa proprio venire La pelle d'oca Raga Allora Ciao Lulu Ok Allora Usiamo questa Dobbiamo ascoltarla Ragazzi Diventare posseduti Da un'entità malvagia È carezzato Da una perdita Di controllo Sul corpo La mente E l'anima Ah no Aspetta Ho sbagliato Cassetta Ho sbagliato Cassetta Vabbè Ciao Teams Ciao Sophie Devo leggere la 2 No No Non è la 2 Io stai Ma oggi Quello si rigola L'ospite A vivere momenti Che non dovrebbero Essere possibili Ciao Asia Ciao Maxi Sto perdendo la testa Scusami Scusami Ma la 2 Ce l'ho in mano Raga La 2 Ce l'ho in mano Ma Vaffa Ciao Vita Ciao Tizi Quindi Cosa devo fare Devo cercare Il quadro Quello A forma Di pentagono Dio Sofia Ma non lo so Raga Perché Scusatemi Bagliato Io in questo momento Ho Le foto Le cassette Il libro Martello Macchina Sti 2 oggettini Che mi servono Da posizionare Nella casa Della nonna Nella stanza Delle nonni Ciao Hertz Anzi Li vado già a mettere Così me li levo Dalle palle Oh che bello Ragazzi Deve essere qualcosa Di orribilante Sicuro Tra poco Ragazzi Tra poco Guarda Già lo so Una E 2 Ok Troviamo il terzo Non si può salvare Bacco Non si può salvare Non c'è il salvataggio Su sto gioco Non esiste Non esiste il salvataggio Raga Non c'è E non ho capito Perché non c'è Zero Eh per questo Bacco abbiamo dovuto Ricominciare da capo Ciao comics Per questo abbiamo dovuto Ricominciare quella parte là Perché Non c'è il salvataggio Litte Non ha senso Che l'avete adesso La posizione Devo aspettare Non ha senso Farla adesso La posizione Dei pianeti Si fa Dopo Quando siamo tutti e tre Non le ho Tutti e tre Via 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 Fammi andare a salvare Eh sia a salvare A posare gli oggetti Va Io paura Ma no Roberta Anzi Anzi che il gioco Mi abbia conservato Eh questa tipo La posso conservare Poi Eh Ah no Basta Ok Ho conservato La cassetta Ok Allora Allora C'è un problema E mo che se fa Allora A sto punto Dai Di babbatone Si gioca tutto Senti Ricone No 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 L'ho già giocato Un altro gioco Imse Ho già giocato Evil Nan Fino ad adesso Questo è già il secondo titolo Ragazzi ma comunque Nelle mie storie Nelle mie storie Trovate Il gioco E l'orario Del gioco giocato Quindi Non potete sbagliarvi Ciao Sei Lorina Buona cena Allora Questo è il libro Della nonna Che abbiamo letto Che la nonna Soffriva di cataratta C'è qualcosa Che io non sto facendo C'è qualcosa Che io non sto facendo Però non è tornata La madonna qua E quindi Devo farla tornare Qua la madonna Sicuro Ti conveniva portare Tutto il gioco Oggi Allora No Mamma Non mi piace fare Non mi piace fare La live Su un unico gioco Cioè parto dalle 17 Arrivo adesso Perché ci sono delle persone Che non possono venire qua Prima delle 8 di sera Quindi se io faccio Il gioco serale È perché Così Tutte le persone Del gioco serale Possono godersi Il gioco serale E anche la continuazione Se io lo giocassi Alle 17 Perderebbe Di 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 Senso Che poverini Chi se lo stava guardando Non lo può seguire più Bene Maya Ok Va bene E Qua non Niente È tornata La madonna È tornata là Qui che altro Questo personaggio Non corre 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 tipo Non corre Cammina C'è caschetto Però hai detto Che non c'è il salvataggio Vabbè Ma ricominci da una parte Vicina Ieri sera Mamma L'ho già ripresa La parte vicina Ieri sera Sì Domani faccio live Tranne sabato e domenica Ragazzi Ora La madonna Non c'è Non l'ho fatta tornare Che palle Ho sbagliato Devi trovare qualcosa Per aprire la stanza del padre Non so Devo anche aprire la stanza Con l'orologio E io ce l'ho Il modo per aprirla Ma non Ciao Damiano Devo bannare Momo Sì Sì Qualche volta Sì Per farle capire Diciamo Chi comanda Banniamo Momo Per farglielo capire Poi torno Rinsavisce Ti devi ricordare Il salvataggio Sì Esatto Devi ricordarti Cosa devi fare Il problema è che io pensavo Che questo gioco Si autosalvasse Perché I ragazzi mi hanno detto Che si salvava Dai Lasciate in pace Momo Qua dovrebbe esserci La Madonna Vabbè Adesso spunta la Madonna 3 2 1 Madonna Ancora no What the fuck Raga dove cazzo è La Madonna Raga dov'è la Madonna Dovrebbe spuntare qua Che non c'è Sì il quadro L'ho già messo Dove andava messo Si è fatta un giro E quello Raga scusate Io mangio Perché quasi Raffredd Vedi È meglio guardare il video Non giocare E che non riesco a mangiare Non riesco a cenare Con Col gioco Ciao Angel Buonasera L'ho toccato L'ho toccato l'orologio Credo Ciao Ica E sì l'ho finito Cioè l'ho finito Bisogna aspettare il prossimo aggiornamento Come cazzo la faccio a far venire qua Raga Perché la Madonna non viene Non viene Non viene proprio Hai il prime di Amazon Hai il prime di Amazon Ica Credo che devi scattare una foto Ah aspetta No Qua Qua devo scattare una foto No Forse è la cosa rossa No Non sapevo manco Hai visto A cosa serve il VIP Ti permette di Spammare Un po' di più Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Uraga Non mi spunta la Madonna Onesto Non mi spunta la Madonna Pare brutto però Questa avevo già letto ieri Vabbè niente Eh ho capito Però così Ah Madonnina È arrivata Eccola Hai sentito come ha camminato Siamo L'hai sentito il movimento sensuale Della Madonna Verso di noi Io l'ho sentito Vabbè Si sapeva che sarebbe spuntata Ciao Romina Io non ti ho salutato oggi Sì Francia Mi piace un parolone Per ora Sto cacando sotto Mi piace un parolone Però sto cercando di Uh Respirare Respirare forte E cercare di mantenere la calma Ok Nubi Però non sono credente No raga Io non credo Lo sapete Vabbè raga Sta Madonna Però che paura Che ansia Che ansia palese Sta Madonna Che si muove da sola Ciao bracciola E lo so Mettio Lo so Lo so Lo so Raga Dov'è la Madonna Raga 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 Sei andato di nuovo Ma lo può fare Ma la può fare Questa Dove sta Non lo so No raga Vi prego Mi sto cacando Addosso Sì ci sono Jumpscare È nella doccia La Madonna No Raga dove cazzo è Ciao Robby Buonasera Campionessa mondiale Di nascondino Viva la Madonna Nel senso Nel senso Ma la Madonna Dov'è Eh Michi Eh io so Mi sto Impanicando Vabbè La Madonna Non se la sentiva Per stasera Ha cambiato gioco Sta giocando A Fortnite Ciao Don Cannoneo Buonasera Mamma mia Eccola qua Eh la so Raga Eccola qua Io mi sto Cacando So Io mi sto Ciao Ciao Bella Come Come va A posto Spero Che tu Mangio un pezzo Di salsiccia Perché mi sento Ok Qualcuno vuole Giocare con la Madonna Ed evitarmi Questa cosa È tornata Raga È tornata In postazione Eh Vabbè Ho capito Vabbè A lei ci piace Giocare Nascondino Eh va bene È campionessa Di nascondino Lei vince Lei vince Gli sport Del nascondino Stamadonna Anche meno Ma molto meno Bubusettete Bubutettete Allora Allora Qua c'è un 43 Io i quadri Li ho appesi Al posto dei numeri Però Però Mi serve Sto quadro qua Un quadro Romboedrico Devi mettere L'olio Sulla porta Senti come Scricchiola Senti come va Ciao sorbetto Senti come va Sì Cuscino C'è scritto Ma allora No Drake Lascio fare che Sto gioco E' tremendo Potrebbe essere Anche qua dietro di noi La madonna Lo dico eh Non perché Cioè viva la madonna Però Io devo entrare Dentro sta porta Ragazzi Non torna la madonna La madonna Non lo lascia Il posto fisso Allora 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 noi abbiamo Un orologio Che punta L'orario sbagliato Ok Sì Roby Lo trovi su youtube E' proprio playtime Ci sono le live E io qua ho un orologio Che è C'è scritto L'orario 10 Le 9 Scusate Le 9 Ciao Andrix Ora io penso Che In questo In questo orologio qua Vada riportata L'orario Delle 9 Il problema È che non me la fa Provare Esatto Ciao Lori Matti è stato a bannarti E Poi Trova col martello Per fare cosa Per dargli Una botta in tessa Per fare cosa Scusa Forse si apre Quando è quell'ora Ci ho pensato Anche io Però non mi è sembrato Che l'orario Si muovesse Se vuoi proprio Saperlo Hai provato a fare La foto alla madonna Si Eccola No No raga Ma non Non si possono usare Gli oggetti Se il gioco Non ti fa usare Gli oggetti Non si possono usare Oh raga Sto sbagliando qualcosa Ciao Wiki No Non l'abbiamo fatta Wiki Hai ragione Non l'ho fatta Ho sbagliato Ciao Ciao Sicario Buonasera Come ti chiami Su youtube Sempre pavallusi Robby Se cerchi una persona Che fa il content creator Cerco sempre col suo nome Che vedi ovunque Ciao Leo Grazie a copertina Per il follow Ciao Vattuvo Minchia Vattuvo Quanti anni fa No No raga Quale orologio Ho già fatta Ciao Manuel Quell'orologio Ho già fatta No Spy ghost No 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 È perché Vattuvo Si significa Lumaca In palermitano Raga Io ho già fatto Tutto La foto A quello La foto A questo Ciao Marskay Buonasera Prova più vicino Al muro No ma comunque Se fai la foto Si attiva Anche da lontano No Non mi piace Spy Io vado fiera Delle mie origini Me ne frega Un cazzo Grazie Robby Perché se non Squoti la mano Non si vede la foto No Ragazzi Sono le foto Sono le foto Quelle Quella cosa Non le conoscete Queste foto qua Ragazzi Dai Siete così Giovani Che non Conoscete Le foto Dove Dai Le polaroid Esa Le polaroid Raga Non mi fate Gli ignoranti Ciao Asci Non mi fate Gli ignoranti Oh Le polaroid Toglile Dalla Perché si possono Levare A me non è sembrato Sai Matte Non me le fa Levare Non posso fare Non posso fare nulla Con sto coso Raghi Ormai è bloccato Così Che bello Amici Sono belle Le polaroid In realtà Mi piace un sacco Mi piacerebbe un sacco Bella Bella Madonna Bella Fai la foto Quando finiscono Le fotografie Bella Chi si muove Oh Questa è più aggire Di me Ciao Mary Angie Oh Sta madonna È velocissima Cazzo Guardala Come si sposta Questa Affanculo Mi è venuto Un infarto Celebrale Qua Oh C'è L'indizio Su come fare In questa foto Come sta La madonna E non c'è più Quindi non ti so dire Onesta E se era già data Perché gli stavo Un po' sul cazzo Già le madonna Ma che sono entrate Non mi toccatevi Prego Non mi toccatevi Prego È caduta la madonna Spero di no Marco Forza madonna Abbasso Gesù Forza madonna No No Non è che magari lei No che poi C'è Tra i due No magari Non c'è un buon rapporto Che cazzo Vado eh Maddalena Muove tuo corpo Allegria Maddalena Ti prego Non ti girare Verso di me Ti pago Cento euro Se non ti giri Verso di me Grazie Si è girata Si è girata Raga Infatti non c'è più Allora Ok Noi non pensiamo No Pensiamo Allora Allora Eeeh Ok Allora È un indovinello Se ne è andata Che ha da fare Deve parlare con Gesù Logan Ciao Raffi Un attimo Che ha da dire due cose a Gesù E torna qua Due secondi Raga Allora Guardiamo la foto Sono i pianeti Si No Robby Al cinema Esatto Io sarò Gesù Ho capito Ho capito Babà Che cosa hai capito Che No Eeeh Chica Mangia la pasta Schizzo Ho capito qualcosa Ma non vorrei aver capito un cazzo di niente poi alla fine Che è molto probabile conoscendomi Ok 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 Allora Ciao Nigga Eh babà Conosci bene il sistema solare Spero Eh sì Però devo prima metterle No Come butta a caso Ciao Foxy Un bel po' Foxy Ti ho già salutato Asia Dopo il primo saluto non saluto più Perché nel senso Non è che sono un Uh Non mi vengono le parole Basta Mi viene la parola Ok Ah Quella è la terra Allora Quella è la terra 100 100 Quindi Prendi questo Però non capisco perché questo è qua Cioè io non ho capito perché Perché questo è messo qua Ah No più che altro Allora Marte Sì però Io non devo seguire la foto Però Perché se io devo seguire la foto E non è giusto come sono messi Se io devo seguire la foto Allora non devo seguire la foto Allora la foto non va seguita Sì chicca Bene Mary Benissimo Ma è cosa Ciao Vagar Ti ho trovato su TikTok Dove raccontavi dello stop Che ero il 28 Ciao Vagar Ciao Ellos Oh grazie per essere arrivati da TikTok a Twitch Thank you Super gentili Uh senti Sai che c'è Vaffanculo Lo provo come Voglio farlo io Così Mary 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 E niente E niente Sozza Sozza e sporcacciona Grazie Mary Per la sabbia E la taxerian Eman Marilu Infectus Koji Gatti Lore Neptun Niche Ros Grazie mille Per la stessa volta regalata Alla community Deco Thank you Grazie Grazie Super grazie Io sono riccio Ok Si Eh Cosa No No niente No non ho capito Eh No Non lo so Non me lo chiedere Di nulla babbo Ma che di nulla Ok Giusto E poi questo Ah va girato Minchia Non ci ho capito Un cazzo Sicuro Ehi No Girato dall'altra parte Fatto Fatto No Non è fatto Questo è dall'altra parte Mi sto cacando addosso Mi so caca Pronto Ah Chi è Salve Eccolo il quadro Signori Eccolo qua Sì 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 Ce le sono otto Perché quelli Sono solo Quelli disegnati Dei Dei Così Che devi mettere Sì Continua ad aprire Mentre io Continua ad aprire Mentre Maggio Cazzo Che schifo Sto facendo una pasta fredda Ok Mi sta avverando l'ansia No raga No Perché non Non è accesa la luce No raga Non ci vado là C'era un cassetto Zack No raga Non ci vado No 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 È vero No raga Che due coglioni Quindi Nonno Ha cercato Di contattare La nonna Con questa cosa Quello è sangue Che culo Raga C'è troppo Buio Oh Slimy Non dire Vai No raga Mi sto cacando No raga Mi sto facendo La cacca addosso C'è puzza di culo C'è puzza di culo Raga C'è proprio Puzza di culo C'è Se sentite Puzza di merda Sono io La vacca Puttana La vacca Puttana La vacca 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 Finchè la vacca Va Lasciala andare Finchè la vacca Va Non la toccare Finchè la vacca Va Non ti fermare Ti prego no mi toccare, io vengo in pace, no, no Nooo, no, 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 no. What the fuck is happening in this house? Ma vaffanculo Ma vaffanculo va Ma vaffanculo Ma no raga Raga vi giuro mi sto cacando addosso Poliziei Allora mi sa che ho sbagliato a mettere i quadri sai Cioè i quadri sono giusti Ma è sbagliata la somma La sottrazione raga Stanotte non si dorme Perché ieri notte abbiamo dormito Ciao l'ugranile Finchè la cacca va Lasciala andare Allora No perché qua c'è scritto L'età è solo un numero Puoi aggiungere o sottrarre Ma alla fine della giornata Quando arriva il momento Muori comunque La vita è un biscotto Ma se piove si scioglie E poi muori Eh Forse devi Devi rimanere solo con i quadri che fanno 43 E allora perché farmeli cercare tutti i quadri Little Avrebbe un senso Eh Vince Sono successo un sacco di cose Vince Perle di saggezza Vicky ha una voglia di vivere Lucris in questo momento Non avevi le foto dei numeri di sangue sotto i quadri? Sì Sì Wicky Sì Eh Slimy Ciao Nemsina Obiettivo del gioco Morire Cioè in realtà è provare a non morire Però la vedo difficile Eh La vita è un temporale Essere inculato è un lampo Grazie braciola Un applauso Eh minchia poeta braciola eh Seconda vita faceva il poeta sicuro Oh Ciao Jacopino Allora Fermi Manca uno sopra il letto No 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 Quello non è No no solo questi qua erano Eh Allora vuoi un po' d'olio? Ma forse ha idduco a capolta Matteo onestamente Senti che Senti che Un po' d'olio sulle Sulla badario Oh Gesù E Alexia Gioco horror più matematica Top Minchia che cazzo Cazzo non mi dire niente Io già con la matematica facevo schifo in culo Ciao Marco Puccettone Allora raga Dobbiamo fare 43 Dobbiamo fare 43 Dobbiamo fare 43 Ciao Jack Sì finito Dobbiamo fare 43 È uscito il 69 No è 69 Non è riuscito Fammi il tombolone Lo fammi in casa Che posizione è il 43? E cercherò nel libro Quello che usi tu Quello tuo Braciola Quello Braciola Quello che Quello che usi tu Ambo Allora Andiamo Questa si può scartare Scarta 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 Minchia Allora Allora 38 Sotto lui c'era 38 Nel rombo Esatto Spider 38 25 Nel quadrato 10 Il rombo 13 Il cerchio Dai raga Poi vi li giocate i numeri Aiutatemi Allora Devo fare 43 Ciao Olimpia Devo fare 43 Perché 10 Più 13 23 23 Più 25 48 Questa sta a scartare 48 Più 38 E no Ciao ciccio Stiamo giocando un gioco Ora è un po' bruttino Che è Madison Bruttino nel senso che fa paura Non che è brutto il gioco Perché il gioco è un giocone in realtà Cinquina 86 Allora Allora Mazza C'è un problema Noi dobbiamo fare 43 Se la somma fa 86 Grazie Spider Per le 4 sub Arrita Molly Slime Angel Fratifo Thank you Aggiorni sub goal Arrivo Mamma Aggiorni sub goal Piccolo Avvia Grazie Allora Aggiungiamo un ri Al ri Sta diventando lunghissimo Questo ri Comunque Guardate quanto è diventato lungo Ri 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 Allora Allora Io devo fare Simo Grazie mille per la sub Mi è tornato per il sesto mese Bentornatissimo Grazie No Allora Fermi Ciao babba Come stai? Bene Io tutto bene Ho appena finito di vedere il video del cinema su tiktok E sono rimasto a piangere del ridere per 5 minuti E stavo per soffocare Buona serata a tutti L'importante è che non arriva il soffoco No Babba Ho sbagliato È stata una congettura Alucard Bentornato nella conutile comp Eh sì Vabbè Grazie per le 5 sub regalate Rose Ale Perez Lucia E gioco Ma ha fatto anche partire l'hype train Che è già a livello 3 Pazzi fuori di testa Thank you Grazie ragazzi Grazie a tutti Grazie mille per il supporto A tutti quanti Thank you E grazie per l'hype train Vabbà È già aggiornato raghi Sono scadute raga Sono scadute le sub raghi Sono scadute Pronto Sono scadute Ma no Io lo vedo diverso da voi Il sub goal Io vedo 1226 Sul 1230 Io lo vedo Vabbè L'avete impallato Il sub goal Allora raga Concentriamoci un attimo Trento E niente Eppure Leo Si riabbona al canale Per il terzo mese Leo Mettici il bambino Nel 38 Dici Grazie Leo Torno oggi E faccio la sub Grazie mille Leo Venturato nella community Per il tuo terzo mese Grazie ragazzi Ciao Franzimon Eh raga Che devo fare Niente Poi di non aggiornare Si inventa i bug No Brasciano È buggato Ti giuro Brasciano è buggato Ti mentirei Se non fosse così Ma è buggato Ci provo Però Ci provo Ma io lo vedo Stra 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 Allora Abbonamenti Ok Che ho fatto Eh qua Ok È giusto adesso Raghi Adesso si Ok Allora Ciao Batman Ho capito il calcolo E allora Io secondo me Il calcolo Si fa Togliendo il quadro Perché lui dice Che devi fare Addizioni e sottrazioni Ciao Spider Addizioni e sottrazioni 38 più Allora Nel muro Ci stanno Delle addizioni E delle sottrazioni Ok Ci sta 10 più 33 43 38 più 13 51 Eh 51 meno Eh no 56 meno 33 23 Quindi Secondo me Io devo Sommarli tutti E levare E sottrarre Quel numero Per arrivare a 43 Sì 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 Joanna No 43 è scritto La Anche scritto La Devi fare 43 Per aprire sto muro Eh, con tutti quanti 86, Leo, se non erro Ciao, Sandri e Pippo Con tutti qua, allora, eh 38 più 25 più 10 più 13 L'età del bambino Ma no, non ci serve l'età del bambino Ah, ho capito Tu dici che l'età del bambino è quella che devi mostrare dietro la parete Perché è l'unica che è il punto interrogativo Può essere che devi fare l'età del bambino 43 Meno 5 No, 40 Guardate, metodo 38 Grazie, Uni No, Uni, non farlo mai nella vita Giusto, raga Il bambino ha 5 anni Eh, però devo togliere 38 Raga, che senso ha Se io tolgo Se io tolgo questo quadro C'era già quello del bambino Su sto quadro, ragazzi C'era già il quadro del bambino Su questo posto Non credo che abbia senso questa cosa Non credo che abbia senso questa cosa Perché io l'ho preso da qua Gira i quadri Mary Madonna Mary Maria Mary Grazie mille per le 5 sabbe regalate C'è sta, madonna Grazie La sabba mentina Marfe Andro Giulia Francimon Grazie per il supporto del treno Sì C'è scritto che l'età del bambino è 5 anni Irene I moderatori possono aggiornarmi Nel sabgole, per favore Perché ho la pasta davanti E scrivere nella tastiera è difficile, purtroppo Ciao, Angelica 38 più 5 uguale 43 Tutti i quali devono avere un numero Cose Devono avere in comune il numero 43 Grazie mille per il soup Bella la madonna Sì, ma ci è spuntata di botto poi E mi sono cagato addosso Sì, la pasta è congelata ora Usate Che cazzo Facciamo ragionare Possiamo fare un ragionamento, per favore Possiamo ragionare un attimo insieme Volete che giro i quadri? 68 anni Filomena Maxwell E raga Grazie, Dazzy Ciao, Gigio In bocca al lupo Ma fa un culo, Gigio Che me sta avvenendo un infarto Stai zitto Ma d'ordine, vengo a prendere a casa Guarda Se togli 25 Fa 43 68 Meno 25 Fa 43 Sì 33 Cioè 43 L'età non è Io non capisco Io non sto capendo Madonna Sta madonna Ha rotto i coglioni Però, eh Non è che voglio essere Non riappare? Puttana Mettila nel 25 Ma chi questo? Questo? Nel 25? Qual è il 25? Il quadrato è il 25 No, raga Eh, allora Scusate È il quadrato È il 25 Fa qua Ciao, Jarmi Ciao, ti stavo seguendo sui TikTok Ma ora sono su Twitch Sei troppo brava Grazie, Armi Risolver Eh, bisogna risolverlo, raga Ciao, Sos Guarda nell'angolo Di fronte alla scrivania Con la foto Dell'età Guarda nell'angolo Di fronte Alla scrivania Questa No, non ho capito Grazie, Dazzi Questa No, non ho capito No, raga Non ho capito Guarda nell'angolo Di fronte La scrivania 44 donne in fila per 6 Col resto di 2 Si unirono Compatti in fila per 6 Col resto di 2 Con i baffi allineati In fila per 6 Col resto di 2 6 per 7 42 più 1 43 Una donna Si è persa per strada Hai capito, Babba Ma smetti di fare il coglione No, Asia Non ti devi iscrivere su Twitch È gratis Twitch Ciao, David Ah Andiamo di sub grandi Quali sono le sub grandi? Babba, sei il martello per rompere le assi dove c'è Non si può fare, Angelo C'ho già provato Ciao, Simogold Nella scrivania Subito davanti le scale Sul muro Trovi il calcolo 10 più 3 Si, lo so Lo so, si Ed è la cosa che ti dicevo io all'inizio questa Ciao ragazzi Se volete l'uccello vibrante Perché lo avete piccolo e moscio Mi raccomando Abbonatevi a Babba Lucy Per avere l'uccello più grosso e più attivo La vostra ragazza ragazzo Non si lamenterà mai più Paga anche tu la sub a Babba Lucy Alla modica cifra di 4 euro Sì Controllate, controllate Avete visto che è moscio e più piccolo del solito? Per averlo più grosso Scegli Babba Lucy Sì Sì Grazie mille ragazzi per tutti gli abbonati Per tutti i ritorni nella community Per tutti i nuovi Per tutti i beat Per tutto quanto Grazie per il supporto e per questa iptrenda Nel livello 5 Thank you Thank you Grazie Pippo A che ora stacchi? Alle 23 come tutte le sere Ciao Bumber Togli i quadri e fai il calcolo con l'età E allora è giusto quello che dicevo prima Se io prendo 10 Più 30 No aspetta No aspetta cos'è che devo fare? 43 Il numero è 43 Se io devo fare 10 Ti devo fare 43 Sottraggo Il quadro è 62 Il quadro è 62 Mettilo sul 25 È già sul 25 È già sul 25 Perché è un quadro quadrato Ed è già Era già sul 25 Ve l'avete fatto spostare poco fa Se non erro O no Ah no Scusami questo va qua No scusami questo va qua Perché il quadrato È il 25 Il quadrato è 25 Quindi 68 Sta sul 25 Poi Aspetta Fammi controllare gli altri quadri Quello che ci hanno scritto dietro Eh sì 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 Forse abbiamo capito Sì Allora 56 56 Per fare 43 Tolgo 13 Quindi va sul 13 Giusto? Ok Oh Ok 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 Va sul 13 Il 13 è Il cerchio Quindi questo quadro va sul cerchio Bisogna sempre fare D'accordo Esatto D'accordo Ok Lui 33 L'età non è Ciao Cenni E dice così A posto Cenni Graziemi Esatto È giusto allora Sì 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 Cenni Quello l'abbiamo fatto Grazie mille Mary Per le 5 Sabato Basta Mary Puzzleon Vitto Mica Boboi E Fede Mary basta Stai ferma Ferma Non ti levare niente Non è giusto Ciao residuo Non ti Fermi 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 Il prossimo che tu le sa Una botta nel culo Ciao Dorayaki Cosa stai giocando A Madison Allora 33 33 Più 10 43 Quindi Bisogna Prendere il quadro Col 10 Il rombo Questo va sul rombo Me l'ho bannato E braciola Bannato Io una Quello che dico Mantengo Bannato Grazie braciola Per la sub Regalata Grazie braciola Per la sub Regalata A Dov'è Dov'è Crezim Thank you Bracciola Bannato E' tornata la madonna Che bello Evviva la madonna Quindi Quindi Appena io poso il quadro Succederà qualcosa Ragazzi Buonanotte E' chiuso E' occupato E' occupato E' a bagno Vada via E' occupato Jumpscare Grazie a Mary Per le 5 sub Bella bannata anche Mary A Texim A Tapine A Cocomi Velina Dai che Raga Raga Basta Basta con le sub Basta Calmi Grazie Grazie mille per il supporto Ti darò una fetta del mio Anos Ciao Elboy Perché l'Anos si sa E' per sempre Minchia Che buio Che fa Cazzo Bannata per un secondo E' stato bello E' stato intenso No raga Io non entro No no Io non entro No 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 Zucciatemi Pisellino Un momento Stasera non vi siete regolati Non lo state facendo Io sto mangiando le 9 e mezzo Allo grazie mille per le due sub Regalate Pupo Grazie per Leonardo E Pandi Thank you so much E' la pasta fritta Vai di foto Maria Ora si aggiorna E sta po' golle Sono là Sai se c'è un moderatore Che la può fare Io entro Ma non voglio sapere niente Non entrerò Di dentro Senza luce Oh per fortuna Che l'hai detto tu Cazzo Oh perché io non Io mi stavo cacando addosso Onestamente Vai Io sto ancora aspettando La ricetta della salsiccia Col sugo Stai calmino Fefe Capito Mi sono impronte Di mani sui muri Ti prego Oh Oh Ah ti prego Ti prego Ti prego Ti prego What? Ah Ah Puttana Evo Ah Sì 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 Dai ti prego Non mi salire Io Io c'ho Moglie E figli Porca Troia Io c'ho Moglie E bambini Oddio raga Dove vado? La smetti di spegnermi L'accedire O pezzo di coglione? Eh? Se hai le palle Perché non me lo dici in faccia Quello che devi dirmi? Perché non me lo dici? Perché non me lo dici in faccia? Perché non me lo dici in faccia? Ciao erica Perché non Perché non me lo dici? Sì Perché Perché non Perché non vai a fa' culo? Ti prego Ti prego Ti prego Ah Perché non me lo dici in faccia? Perché? Perché non me lo dici in faccia? Non me lo dici? Non me lo dici? Dai Eh dai Che mi spegne Stai zitto Brutto Coglione Te l'ha detto no? Che m'ha detto? Cioè Eh raga Però non scorreggiate Eh che C'ho l'accedire acceso Ma tutto a fuoco Sei scorreggiata Oh Mary Oh Mary Vengo e ti stacco il cazzo di portafoglio Capito? Prendo il portamonete Mary E non lo trovi più Grazie a Mary Per le 5 sabre regalate A BRB A A Georgia A Mary No scusa A Maria Non se l'ha autoregalata A Flavia A Lea E a Claudia Bentornati Babà stai calma No No Tu non puoi capire i miei sentimenti Grazie mille Mary Per tutto il supporto Di questo mess Thank you Ho la carta registrata Che cazzo vuol dire Sub goal è bagato Non posso cambiartelo Vabbè La gente che verrà in live Si immaginerà Un sub goal Degno di nota Sei su twitch? Certo isco Babà lussi Eh 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 Maria Ti prego Mi sto Mi faccio la cacca toss Mi caco Come facciamo? E non lo so Mary Me lo devi dire tu Come faccio? Niente Moderatori farlocchi Con la strega Sì moderatori Niente Proprio Santa Maria Viva i cachi Che Dio li benefica Santa Maria Sì e quanti posti ci sono Sì Raga Ma io mi perdo Oi Ciao tiger Ciao tiger Benvenuto Come stai? Spero ben Ciao marica Ciao raga Spero che siate bene Perché urli? Perché urli? Urlo perché Mi sto caccando a tossa Andrea Capisco che la tua intelligenza Purtroppo non arriva a quel punto Però Ciao Vivi l'auto Urla piano Per non far rumori Si addormenta di sera Si risveglia col sole E' chiara come l'alba 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 Eh Foto? Ma dove è lì? In alle 23 Ok, Jill Ma gli altri va, Jill, non ti preoccupare Cantiamo per sdrammatizzare E ti chiedi che cosa ci faccio a quest'ora di notte nei tunnel al buio Non lo so nemmeno io E' sempre Madison? No, è Madison? Due La vendetta Ciao Pietro Raga, sto male, mi sento male Raga, io sto girando, ho lo sguardo semi-girato perché mi sento male Sto guardando la chat ma mi sento male Pietro, io leggo tutti in chat Non c'è una persona che io non leggo in chat Raga, ma avete sbannato... Quanto tempo è rimasto il braciolo abbannato? Rieccomi Ok Ma deve andare il fiero stasera a tre bann Raga, mi sto cagando Raga, che palle Maria, lo sapete che io non riesco a fare ste robe Ciao Simo Lo sapete che... Wiki No, Wiki Le cinque sub per farmi calmare non servono, Wiki Grazie mille, Wiki Per i cinque abbonamenti regalati alla community dei compi Aurora, Mika, Ifa Tonev e Stellina Bentornati bene tutti quanti nella community dei compi Grazie al signor Wiki Grazie mille per il supporto ragazzi Spero di meritarmi ogni singola sub presa in questo canale E' tutto così buio No, non è vero E' una tua impressione che è tutto buio E' una tua cazzo di impressione Eh raga Non ce la faccio più Ave Maria Piena di grazie Esatto Ma la madonna qua non c'è? Una parete Raga ma quanto tempo è che sto girando? Ma da quanto è che sto girando raga? Propongo di cambiare gioco Non possiamo Claudia perché I ragazzi della mia chat Hanno riscattato questo gioco Con le sub Quindi non posso non giocarlo Claudia Perché loro Pezzi di merda Tu dirai Lo hanno riscattato sto gioco Con le sub Dai Oramai abbiamo capito che spuntano Non fanno nemmeno più paura Sì Irene Sì sì Irene Sì sì Io proprio Sì sì No è giusto girare di qua È giusto girare di qua Con quale tono l'ha detto Povera Sì Ti giuro Guarda Raga C'ho la pelle d'oga C'ho la pelle d'oga Ti giuro Allora È un labirinto Maria non ce la faccio a fare Allora è un labirinto È un labirinto Io devo ricordare Memorizzare i posti Giusto Ma questo è un labirinto Quindi Ciao Sandri Sei andata tranquilla Sì fra amici Sandri Guarda Cioè in realtà I miei amici in questo momento Sandri si stanno divertendo Tantissimo Si stanno divertendo Tantissimo Io un po' meno Però Andiamo sempre a destra Ah c'è la tavola col chiodo Sbagliato Comprate uno zippo a quest'uomo per dio Lo zippo Quella Quello Come si chiama Sì lo zippo Lo zippo Lo zippo Zippo Raga Vado a destra Perché C'è l'entrata a destra Il trucco E tieni sempre la destra Sì Sì Io la tengo La destra Perché mi soffia lui Giulia Fa Ciao Vale Ho sentito cosa è successo L'ultima volta che sei andata al cinema Hai visto Martina Mary Mary Hai rotto i coglioni Mary Vengo letti frusto Ah No Grazie mille Ve l'hai sempre regolata a Marty Joe Gabber Mary Max E Vanhaef Grazie mille Benvenuti e bentorni tutti quanti Nella copertina dei cop Dici Tieni sempre la destra E la sto tenendo la destra Raghi Ciao Alok Dai Aggiorna Dammi un secondo Ciao Memole Devi scattare le foto E seguire le strade Con le impronte Quali Quali impronte Con le impronte Scusa Ma io non le vedo Ah Ah Perché lì non ci sono le impronte Ma le vedo solo con la Ma porco Ho capito Le mani Sì Ciao Sergino L'abbonamento Pietro costa 4 euro Se hai il prime di Amazon È gratuito Se invece Non hai il prime di Amazon Ti puoi abbonare Con 4 euro Però Addio Però raga Non Non vi preoccupate Non vi preoccupate Non vi preoccupate Qua è pieno di impronte Però non si capisce E non si capisce Piero di impronte 3 ore 99 Vabbè Foxy Va per 5 Per 100 Ciao Alessia Raga Se vi potete abbonare Perché volete Ok ma Non siete costretti Ti soppiato Assolutamente Mi sto Ti giuro No Martino Ha bastato male Martino Ok vanno di qua Le mani Io lo sento Vicino Vicino Ragazzi Foto Mary 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 Un'altra Mary Quante Mary Un sacco di Mary Mary Grazie per le Per le 5 sabottole Shiki Dark Ray Veleno E anime E grazie a Mary Per esserti abbonata Col Prime Thank you Grazie Para Grazie Anche a te Per il Prime Grazie mille Per il supporto Ma grazie Grazie ragazzi Mary everywhere Yes Che fortuna Mary everywhere Quindi vado di qua Giusto Dov'è la Madonna Eh Meglio che non la vedo Onestamente Madonna Di qua Hai detto Mary 104 volte Sì Tutte le volte Ho detto Mary Almeno 50 Volte Uscito L'uccello E fatelo Vibrare Ragazzi Me ne ho fatto Uno spammino Di uccelli Vibranti Per la signora Mary E tutti quelli Che hanno donato Le sub Oggi Per chi si è abbonato Me ne ho fatto Uno spammino Di sub Di emotico Eh Guarda che siete belli Mamma mia Mario Guarda che Tutti Tutti con la sub Tutti Tutti con gli uccelli Vibranti Ormai Grazie Bravi 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 È giusto È giusto Festeggiare un po' Cazzo È giusto Mi sta ballando Il telefono Pietro Non devi cliccare Troppo forte Che siete belli Allora Eh Vabbè Esagerato Io no Purtroppo Ma va Tranquillo Come non puoi 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 Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai L'hovetto Ma io mango Glicco Allora Cristo Santa Tu sia Pelata Col cerchietto Ciao capra Buonasera Capra Eh Levala solo Aspetta Perché forse Non posso Scrivere più Ragazzi Sua madre La mia madre Bravi Che avete Spammato Bravi Eh no Ma tutti Prendiamo un colpo In culo Qua Onestamente Grazie Cacarotte Per le rose Thank you Maria Bedda Madre Ciao Samix Ciao Pupi Benvenuti Buonasera Buonasera Mi erano Mancati Questi uccelli Vibranti Hai visto L'abbia fatto In un'ora E tu Dark Devi Spammare le emoticon Che ti chiedo io Non quelle che dici tu Pezzo di merda Oh no Cioè io con quest'uomo Ci guardo pure gli anime Capisce Questo è il rispetto Che mi dà Questo è il rispetto Ragazzi Attenzione al jumpscare 3 2 1 Grazie Grazie per tutto il supporto E su Twitch Sì Ale Grazie Ragazzi Ciao Labia Col Prime Labia Devi collegare Il tuo account Con Amazon Con Amazon In alto a destra E una volta che hai fatto il collegamento Avrai La coroncina accanto al nome Quella che è tipo Dark Striker Matti Sarto E così via E puoi abbonarti gratuitamente Anche la tua scelta Una volta al mese Cazzo Non è di là Vabbè Dark Stai calmo ora Quelle di Dara Te li permetto Anche se Ciao Giuseppe Buonasera Prima della nanna Giuseppe Ma perché mi guardi Prima di andare a dormire Cioè Io credo di essere La cosa peggiore Da guardare Prima di andare a letto Con tutti sti horror Anche io Gerardo Lupo Tu prega Prega Che io qua Tu prega lupo Che io vado avanti Un altro bevio Attenzione Japsker E qua Ciao fratifo Buonanotte Ciao Tommy String E invece no E invece E invece no Ok Per i ragazzi di TikTok Se volete venite su Twitch Siamo un po' di più E c'è una chat Molto più attiva Vi potete iscrivere E parlare con tanti altri Quindi se vi va Puttana Su Twitch C'è un ambiente Un po' più Amichevole Ciao Gloria Ciao Ma Ciao Ma Raga ma la mangia ancora La pasta E' fredda Cazzo me ne frega Venite su Twitch Popolo di TikTok Sì più che altro Perché c'è Una bella chat Magari possono fare Anche amicizia Capito Interrompe sempre Sul Sì sì Ti ringrazio Non ho più paura Che è stato? Buona la pasta Fredda congelata Non ho più paura Non ho più paura Ma andiamo avanti Sto gioco Ho provato per fare la dieta Sì Sto per andare a vomitare la paessa A comics Manca pochissimo Guarda Esatto Ora te la fuoca la casa E scappi E sabri Se potessi Ciao Angelo Sono morto Mi è venuto un infarto Raga Ho le palpitazioni Un infarto Un infarto Un infarto Ma nonno Guarda quante croci È piccolino lui Sì Guarda quante croci Jumpscare 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 Sei siciliana? Sì Ma siamo in un cimitero Usa il defibrillatore Eh magari C'ha vissi Siamo in un cimitero No raga Mamma Eh guarda Com'è casa mia Piena di croci Gerardo Mi sento male Non puoi capire Le palpitazioni In questo momento E la pelle d'oca Raga Non lo potete Un cimitero Come sono arrivato qui Ma che cazzo ne so Ormai la donna distrutta Lori Io sono Totalmente cacata Cacata Scusa ma dove vai? È verso l'infinite oltre Che cazzo ne so Para Non lo so Io vado oltre Para Fino a quando lo sbatto Contro il muro Mi insegna mio padre Foto Esatto Non si vede una ceppa Non si vede un cazzo Odio i cimiteri Guarda Io odio Alexis di Stefano Ferraro Nicolas 1995 Ah minchia Chi sei giovane Dengre Dengregg Greg No Questo è rompirata Da giovane Questo è rompirata Raga Questo si vede È un pirata Sì sì Capitan Jack Crystal Forse Crystal Barba bianca Potrebbe Anche barba nera In realtà C'è il bot Che legge I messaggi Con i beat Sì Allora Bisogna trovare L'uscita Bisogna trovare L'uscita Se io costeggiassi Le pareti No Se costeggio Le pareti Prima o poi Trovo l'uscita Almeno Credo Ciao Mario Più o meno Solo io sto Un barrenno d'ansia Anche io Qualcuno mi prepara La tomba Saretta Inizio a scavare Ti faccio sapere Perché Pietro Pietro Che problemi Esistenzi Li hai Per chiedere a uno Streamer Se ti odia Aurora Grazie mille Per la sub Thank you so much Prima o me sotto Insieme Grazie mille Benvenuta Spero Che tu possa trovarti Bene qua dentro Ho una domanda Sono intelligenti Come le prime due Pietro C'ho paura Però vai Domanda pure Mi sto immaginando Che in una di quelle Lapi ti spunta Quella della Metropolvere No Non puoi neanche Immaginare Quanto fosse difficile Viaggiare prima Della mia invenzione Dai stai calmo Che Minchè quella cazzo Di metropolvere Ogni volta Mi faceva venire Avanti E mi spuntava Da dietro La vacca La vacca L'hai presente Loc La vacca Ecco Prendi la vacca Tosare Fatti bannare Come sempre Poi Che infarto Manuel grazie per il follow Non ti sento E niente Pietro Finchè la vacca va Lasciala andare Finchè la vacca va Non la fermare E tornati indietro E porca Di quella vacca Troia Andiamo Sono appena arrivato Ho capito Lo che Questi suoni Che paura Va bastendo In giro Girotone Si lo so Ma io ho detto Prima o poi Arriverò A Qualcosa di Centrale Lisa Michelle Dame Butter Hai presente La vacca Ora prendi Di zero Di zero Cacca E va a cagare Raga Io ho capito Che è un quadrato Ma è un quadrato Chiuso Non è un quadrato Aperto È un quadrato Chiuso Ma è para mia Leggi le tombe Eh le ho lette Alcune Come Lily Io ho paura Dark Ci manca solo Che mi devo pure Mettere a leggere Le tombe Mi sto cacando A tuo osso Devi trovare Quello 1953 Ho paura La foto Alle tombe Secondo me Devo fare La foto Alle tomba Giusta Raga C'è un cristiano Sulla sinistra Per la foto Alle tombe Potrebbe essere Che qualche Dota Con bacia Eh Mauro Ora ho caduto La storia All'inizio del gioco Perché già Abbiamo giocato Una parte Ieri Oh e non Scorreggiate Che è che Scorreggiate Basta con Sti beat Scorreggiate Trova Trovo Trova Trovi quella giusta Beh si Immaginavo Che bisognava Utilizzare le Fot Ah ok Ok Com'è stato Venom 2? Non so nemmeno di cosa parla Guarda te lo giuro Non so nemmeno di cosa parliamo Questo posto sembra abbandonato E' giusto è giusto è giusto è giusto è giusto ha parlato Maria Jamsker sicuro Jamsker sicuro Maria Eccola qua Sun Jupiter's Cathedral E noi ci passeggiamo di notte Cosa sto facendo Oddio Ma se non lo sai tu Testa di cazzo Se non lo sai tu Te lo devo dire io cosa devi fare Maria raga Questo va molto in profondità Eh bello genio che sei va Mamma tua va Come ti sono finito qui? Ma sei scemo sei sceso tu dalle scale Eh grazie Joy Alex E grazie Pietro per il follow Ma è scemo C'è andato lui Sì sì ho trovato la bara E' posseduto Ho capito che è posseduto Però usate come c'è arrivato qua Ciao Alessia Bel tuffo olimpico Ah ma ci abitano Sì c'è pure l'immondizia E' sveluto dalla caduta Ogni scala si ribalta Ogni scala che fa Muore Ci sono pure i sorci Ci sono che li sento cinquettari Sì sì nel gioco Ciao Abyss Buonasera 2022 Che senso Magarena Ricordati di bere Visita i nostri labirinti D'arte biblica I nostri labirinti Vengono aggiornati ogni anno Che bello Non venivo l'ora Non venivo Non vedevo Non venivo Vabbè Poi non vengo un altro Però non vedevo l'ora No 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 Mi serve la luce Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve la luce L'anno scorso Andiamo sicuramente Raga ma io ho perso Il coso Ho perso La cattedrale di Sayupeter Chiude i battenti La chiesa degli orrori La cattedrale di Sayupeter Sta finalmente Chiudata i battenti Dopo lunghi anni Di incuria E alla mancanza Di personale Responsabile Dell'istituzione Il governo Ha deciso Che è il momento Di porre fine I suoi servizi Secondo i rapporti Dei residenti Alla zona La cattedrale di Sayupeter È in un completo Stato di abbandono E l'annuncio Del governo Non è altro Che una Mossa politica In visita Delle elezioni Del prossimo mese È importante Ricordare La sua tristemente Lunga lista Di incidenti Tra i quali Evidenziamo La morte Di 13 operi Durante la costruzione Della cattedrale La confessione Di Nancy Goering Che fu consegnata Alla polizia Allo stesso prete Louis III La veglia pubblica Di messa Della serial killer Madison Hale Ovvio Ovvio Dove dovevi essere? Qua Qua Dove c'è la serial killer Puttana Eva L'asperatore Dell'anno 1892 Incomorirono Tragicamente Dieci bambini E cinque adulti Succito di padre George E la cattedrale Isaiu Per chiudere Finalmente Le sue porte Nel 2015 Quindi raghi Siamo Dove lei Dove c'è stata La veglia Per la serial killer Mi sono mangiata Tutte le labbra Mi sento Le labbra Mangiate Mi dà un fastidio C'è una foto Rozza Dove l'hai vista? Non l'ho vista Io Dove l'hai vista? In fondo Tipica giornata Sì Una tipica Una tipicissima giornata Direi Non l'ho vista Magica Nella colonna Nella colonna Che dio La colonna Vicina al muro Come ho fatto A non vederla? Ah Qua è Grazie Grazie mille Dopo maratona Di One Piece Dark deve andare A letto presto Quindi con lui Riesco a guardare Sennò Due tre episodi Ho iniziato Myro Accademia Ho finito C'è Insomma Io non vado Io non vado No no Sì Sì Si chiama Madison C'è la candela C'è la candela C'è la candela Dammi vedere È vero C'è la candela Bravi Bravi Ciao forza No ma non serviva però Non serviva per farmi luce No perché lui Deve alzarsi presto Per ora fa la mattina Quindi Ciao Raider King Ciao Jasmine Buonasera Benvenuti 1987 1951 2022 1987 Grazie Forza Thank you Contenta di averti fatto ridere No Non lo bannare È la prima volta che viene Poverino Hai fatto 30 30 fai 31 Ma io non lo voglio fare Né 30 Né 31 Allora Mi sa che bisogna seguire Gli scarafaggi 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 Lo so Lo so 87 L'anno di Madison Allora 87 L'anno di Madison 2022 E 1951 È quando ha chiuso No No Chiamo la banda Più Non è che me l'accendi Sta cazzo De lampada Brutto Coglione No 2015 Ho chiuso Simpatica Cazzo Devo fare Raghi Tutto qua Devo tornare indietro Amore Non potrà finire Resisterai Fino alla fine Di no Amore Non ti potrò Lasciare Resisterai Fino Alla fine È impossibile È impossibile Questo posto Non era quasi Un secondo Scusate Ragazzi Il cantare Mi serviva Per entrare Dentro il buio Non riesco Ad entrare Nel buio Se non canto Devo entrare Nel buio Cantando Mini Crisi Epidettica Da Esatto Ma allora Bella Quella tomba Fra Che Perché lei Appesa Così per Pura Curiosità Personale Eh Chi è Chi è Chi è Madison È Questa è la sua Bara Manca la I Manca la I Eh Che vuol dire Manca la I Che vuol dire Manca la I Nuova decorazione Di Halloween La bara sospesa Willing La bara sospesa La chiamavano Per bellezza La appesa Oh ci sta No ci sta Apprezzo Comunque La decorazione Secondo me È appesa Sì È un appeso Madison Ciao Brillantina Le lettere Sembravano In rilievo Manca la I Ah Ok 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 Brilla Non ho capito Perché non fatti Guardando È che sono stanca Guardando Non lo vedevo Non giocavi a Genshin? Sì Pure Io sono una Verity Streamer Gioco a Tante cose Tantissime cose Porterei altri Horror Sì Allen L'ho già fatto Lupo Lo trovi su YouTube Se lo cerchi Allen L'ha già fatto Già finito Ok Potrebbe avere un senso Potrebbe avere un senso Ehi 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 Non facciamo rumori Che non ci interessa Fare live solo su un gioco Dopo un po' diventa noioso Tu pensa Che a me Dopo che io ho finito Baby Yello L'ho finito Ci ho fatto il video Ci ho fatto tre TikTok Ancora mi chiedono Quando giochi Baby Yello Ma se l'ho finito Se no Perché mettevo i video Porca puttana Infatti per ora Ci sto a sclerare Con sta roba Come ti sa Buona babba In basso a destra C'è il pulsante No raga Non si vede un cazzo Ciao flexi No No raga Non si vede niente Io non Io non me l'accollo Sinceramente Cioè Non vedo nulla Ora mi chiederanno Quando giochi Evil Nun E l'ho finito Ora mi chiederanno Quando giochi Evil Nun E l'ho finito Buona Sbatti puttana Bella Gesù Bella Senti andiamo Andiamo indietro così Ok qua c'è un muro Bella Bella Di qua Sempre indietro Usiamo il metodo Di dare le palle Cioè le spalle Raga ma che cazzo Di posto è Onestà Ma che posto è Ma perché mi fai venire Qua al buio Ma perché E col prime Di amazon Franci Però devi avere Il prime Di amazon Non è che devo Fare foto No raga Mi sono persa No raga Mi sono persa Buonanotte Magnus Raga Mi sono persa Non so Tornare indietro Strano Non ti perdi mai Senti ma Ci c'è Mi un po' Un pelmo Dark streaker Onestamente Ci c'è Ci c'è Dark Ci c'è Lì Ci c'è Là Altre tre Così Ma io che cazzo Devo fare Buoni Pompelmi Dai Ciao Valentina Hai mai giocato Ad amnesia No No Servono sei candele Sì Ma io ne avevo Solo una Porti solo Sterline Cos'è Sterline De lupo Scusami O porterai Anche open world Li ho già portati In molti open world Lupo Il prossimo Open world Che ci aspetta Se così possiamo Definirlo E sicuramente Il nuovo Zelda E sicuramente Il DLC Di Elder Ring Sicuramente Il DLC Di Bloodborne Che ci manca Un po' di cosine Ci sono Sì arriva qualche Malo jumpscare Ma sicuro Flexi Ma infatti per questo Ve la sto facendo Di spalle Se ci fai caso Pichi sono convinta Che ci sia un jumpscare Dietro là Bello Cosa Niki Più che altro Io non ho le candele Quello è il problema Io non ho le altre candele Non le ho Devo trovarle Sì c'è un bellaccio Anche la Collector Di Zelda Che spacchetterò Con voi Allora raga Io le candele Non ce le ho Non so nemmeno Come sono Come uscire E andarmene via Da qui Onestamente Sì Matte Non si Non riesco ad aggiornarlo Per ora Perché sto giocando Magari ora Mi cade in testa La bara Con tutto Che cosa Signora Non mi cade in testa Che qua È un attimo Stanza verde E stanza rossa Ma Gabriele Un po' solo Perché oggi Non ho dormito Tanto Ciao Valentina Grazie per il follow No figurati Che scusa Matte Non ti preoccupare No questa tosse Della febbre Non ce ne vuole andare Eh Kirito Mi fa male l'occhio Mi sa che Mi devo Appena Stacco la live Mi vado a mettere Il collirio Però non serve Il collirio La camomilla Qua sotto Perché Sento come Se stesse spuntando L'orzaiolo Ciao Gian Eh noni Sono un sacco Di candele Raga Anche qua Ci vogliono Alte tre candele Scusate Ma tutte Ste candele Con tutti I posti Dove stiamo andando Ma dove sono Buonanotte Buonanotte Anaby Eh ma le candele Non ce le ho Quindi la mia domanda È perché Il gioco Non me le mette Sì lord Sono dodici In totale Sono Sei e sei No scusami Vabbè pure io Sono Tre e tre Più tre Perché sono Quattro spazi Differenti Buonanotte Grazie Miriam Per le rose Thank you Non ricordo I criteri Però Ma guarda Io vorrei Io vorrei Sapere Più che altro Come Come Tornare indietro Da qua Cioè Non ho capito A volte Le stesse buie Bisogna fare Per forza Ciao Babale Ciao colpito Ma le foto Nelle stanze buie Non ci sono stanze buie Però eh Ci sono angoli Bui Ma non Stanze No raga Non mi sto perdendo Perché è enorme Sto posto Mi sto perdendo Mi sto perdendo Mi sto perdendo Perché non ho capito Dove prendere La luce Le lampade Buonanotte Braciola L'orzoio È un'irritazione All'occhio Sì O Raga O mi sono toccata Con le mani sporche Il che può essere Perché se voi pensate Che tocchiamo la tastiera Tocco il pad Poi mi metto Le mani negli occhi Magari me lo sfrego Mi sarò toccata Con le mani sporche E ho fatto venire L'infezione all'occhio Perché mi fa proprio male Non lo posso toccare Chi è? Tanta Ah mi ha chiuso qua dentro Non riesco più a uscire Siamo persa Un male incredibile No lo so Io poi con gli occhi Ci soffro Minchia raga Mi sono persa Lo sapeva Lo sapeva Lo sapeva Mi sono persa Come si torna indietro Non lo so La 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 No ma è enorme Ma come fai a sapere Dove andare È enorme Mi sto Giro Giro Tondo La live Penso sia finita Andate in pace Perché qua Non E siamo qua E già E siamo ancora Qua Oh mio Dio Oh Mio Dio Ah Ah Ok Hai il senso Direttamento di un Ho capito Ma come si fa Io sono Gioro Giro Sono Gioro Di One Piece Tu mi metti in un posto Io non so Tornare Sapevi che io fino all'età di 25 anni Non sapevo tornare a casa da sola Perché mi perdevo Applausi Cioè La foto alla bara L'ho fatta L'ho fatta la foto alla bara No veramente raghi L'ho fatta Cioè non l'ho fatta da davanti Ma l'ho fatta Ah Bisogna farla proprio sotto la bara Eh Ci possiamo dare la mano per l'orientamento Immagino Immagino Eh Sì Oh Oh Ma questo posto non c'era prima Non c'era questa cosa Ah allora Campanile Fondamento Confessionario Labirinto giallo Blu Verde Rosso Chiudi le porte Che qua è un problema Pazzo il cazzo Il gioco ha messo qualcosa Quindi Eh 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 Visita i nostri labirinti dell'arte No no grazie No non ci tengo Grazie mille Gentilissimo C'è il labirinto per tutti i teletubbies Ma più che altro non capisco una cosa Come Dove Ehi 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 Cosa c'è scritto Il colore della vita Il colore della pace Il colore dei nostri piccoli angeli Vita verde Pace bianco Angeli Angeli blu Di solito Il colore della morte Suonava Chi era che la suonava Chi è che la suona La campana Da Doritos Buonanotte se vai a letto C'è qualcosa che devo fare Quei colori La posso suonare la campana Ah c'è una cosa qua Non me ne frega un cazzo Se i tuoi labirinti Vengono aggiornati Madonna Dietro la candela Uai raga Ma come fate a vedere le cose Che io non vedo Ma dove l'avete vista la candela Ma dov'è Nel corridoio Ma non c'era prima C'era Ma non c'era Quando sono Ci sei passata sopra Vabbè Ageli Non me la devi mettere nel culo Per forza Potevi anche dirmi No babba Non c'era E' spuntata adesso Fanculo Sì c'era Io vi banno tutti Buonanotte a chi va a letto Ragazzi Buongiorno Che cazzo Ne sei cercata Raga Io stavo guardando La campana Ok Ci sono cose importanti Da guardare Io guardavo le campane Marco Undirondi No babba Non c'era E' spuntata adesso Grazie Dark Ehi chi è Allora Allora Raga io ho capito Se non ho capito male I colori delle candele e i labirinti sono colorati Una candela gialla e una rossa La gialla l'ho messa Solo che non so se l'ho messa nel posto giusto Non lo so raga Io non lo so Io l'ho messa poi Non lo so Sincera andiamo a mettere la rossa Buonanotte buonanotte raga Foto a chi? A Cauxia Ho già fatto la foto alla campana Ho già fatto la foto alla campana Mi è partita la pubblicità e non so se vedo nulla Ah ok Ciao brillante Cioè che la madonna ce la mandi buona Ti giuro che se mi spunta nel labirinto La madonna di botto Io salto in aria E butto un bestemmione Che praticamente gli arabi mi sentono Cioè mi sentono gli arabi Urlo proprio Porco no Io non bestemmio lo sapete però Addia al canale Sì 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 No vabbè oddio Glono in realtà Le bestemmie non sono bannabili Perché gli americani non credono Ciao Logan In Italia comunque non ti possono fare nulla Anche se bestemmi Anche perché Nel senso È un paese laico quindi Cioè c'erano tutte quante quelle che sono credenze Roba va C'era anche prima Vabbè Logan però se non parli Io mi dimentico Cioè ovvio Ovvio Anche tu ogni ora Logan mi scrivi Vaffanculo E io mi ricordo che c'eri Perché se no è un casino Ehi Oh Trovate Allora questa la metto qua Una signorina Qua dalla signorina Con le tette belle Bella signori Bella Ah lei era più bella però Farò il possibile No scherzo Io scherzo lo sai Logan Sotto il quadro di Cristo va Vabbè forza sotto Cristo Perché sotto Cristo Ma chi la Ma perché perché Dove è scritto che devo metterla sotto Gesù Non c'è scritto da nessuna parte Ah no Il sangue rappresenta Il sangue rappresenta E il vino rosso E Gesù Il sangue di Gesù Il sangue di Gesù Quindi il rosso E il sangue di Gesù Maria io sono atea Tutto il suo Gesù E madonna Mi sta facendo venire L'ansia Esatto Ma come sti cazzi Sangue Il sangue vino eccetera Yes Anch'io sono atea Minchia te prego Mi sta venendo l'ansia Sabrina C'è troppo Gesù C'è troppo Gesù Mi sento soffocare E il giallo Il sangue di Pacman Ammetti di fare il coglione Logan Eh 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 Raga andiamo un attimo ad aggiustare la Quella gialla Scusa ma noi quella gialla L'abbiamo messa sotto Cristo Noi quella gialla Hai visto amiche che C'è l'ansia pure tu Noi quella gialla L'abbiamo messa sotto Cristo Raga Il vino lo prevedisco bianco Anche io Però se l'è rosso Mi accontento Marica Passami il bicchetto Mentre giallo E bambini Azzurro Gli angeli Sì E allora ho sbagliato la gialla Perché io la gialla Non l'ho messa sotto Gesù Cristo Il giallo Il sangue di Quello versi No Pippo Ovvero la purezza Dei bambini Cioè era scritto così Lord No la bianca E gli angeli Esatto Esatto Aspetta Aspetta Allora E allora questa è sbagliata Sitti Silenzio Fate rumore Allora No E allora è sbagliata E questa scusami Bambini Lei Rappresenta Quelli sono angeli Raga Angeli Cristo Bambini Che cos'è questo Io preferisco la birra Vabbè su gusti Raga Su gusti Sì flexi È diventato un gioco Di una setta Sì Angeli e bambini Insieme Sei sicuro Ok fatto Fatto Sotto gli angeli Credo di aver fatto giusto Ma come fate a sapere che Vabbè Vabbè Allora quello è angeli Quella azzura Però ancora non l'abbiamo mai trovata Sulla panche non c'era niente Oh c'è un libricino Dici che ci potrebbe essere L'azzurra qua Sulle panche Oh Mica Brillantina Vabbè Mi è venuto un infarto Brillantina Grazie mille per la sub Benvenuta nella comunità Come per il tuo primissimo Vese in assoluto Grazie davvero No minchia Mi è venuto un colpo Cazzo A quest'anno della notte Non si fanno le sub Raga Mi vengono i colpi Potrebbe venire un infarto Scusa no E tra qui Solo io Solo io Solo io Solo io Il problema sono io Non ti preoccupare Sembra quella delle coppie Che Mi preoccupare Amore Il problema sono io Raga Non c'è un cazzo Forse devi entrare Nella stanza di fronte A quella delle campane E io ci sono andata Nella stanza di fronte A quella delle campane Ma ne ha parlò con il naso Raga Vi si è tappato il naso di nuovo Eh niente Ora parlerò così Per un pochettino di te Eh Mi sono perso parte della lie Eh vero Su Twitch ci sono Un pochettino di Di pubblicità Oddio Attivamente Twitch Non è in carica Abizzef Buonanotte Francesca Io avverso già Un grande jumpscare Ma per ora in realtà Siamo all'interno di un indovine Cioè dobbiamo Fare sto robo Quindi non penso Che ci siano jumpscare Per ora Ora che l'ho detto Mi verrà un infarto E mo' Ecco Eh raga Qua c'era la campana Sì ma stiamo calvi Ma allora Steri Dipende come ti senti tu Tu come ti senti C'era un libro Ma sono i libricini Ciao Assia Buonanotte A destra A destra Oddio oddio La Madonna sotto la panca Eh La Madonna Che è successo Che è successo La Madonna Eh ma siete Siete folli Non questa L'altra Quella Quella quando siamo venuti qua Ora che l'ho detto Sì sicuro Ora mi jumpscare Pure Maria bed amato signore Ti prego Prega per noi No raga Questa è dove siamo capitati No 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 Esatto reality Ma ci sono più porte Sì La Madonna tornerà Sì anche secondo me Torna Questa parte è una merda Guarda Lina onestamente Mi sto sfracassando I coglioni Poi giustamente Questa parte A fine live Mi deve capitare L'ultima mezz'ora di live Tutta sta parte merdosa Poteva capitarmi Inizio live Che ero più Più focussata Ora c'ho il focus Ed che voglio andare a dormire Ma ne ho vista La candela su una panca Eh ma io La candela sulla panca Non l'ho vista Ma ve la vedete Senti come penso Il gioco si è figo Sta parte Sì 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 Il gioco in sé È bello È bello Però sta parte È lenta Perché Poi il personaggio Manco corre Il personaggio corre Se tiene la macchina Fotografica Però corre Ondeggiando Mi fa venire Il vomitello Sinceramente Non vedo nulla Ma manco io Sulla panca Ho fatto il trofeo Da what Così A caso A caso È una candela Nella borsa Se non ha senso Quella cosa lì Ma il problema È che La La bara La bara Se io la rifotografo Si muove Però senti Che si muove Ah forse Prima devi mettere Tutte le candele E poi Devi fotografare La bara E la fronte Nella vegeta Mi raso La testa Vabbè fai bene Stai rivo Poi Allora La cosa bella È se ti sta bene La pelata Ci sono uomini Che sono Bellissimi Capelata Viva la patata Noto che ansia Hai visto come ondeggia Vabbè raga Dove cazzo può essere Dove cazzo possono essere Io ho girato tutto Qua non ne ho trovate Che palle Ora sono io cieca E soffro di ciecità Il che potrebbe essere Che nella Nella vita Forse devi farla muovere Finché non cade Allora O è O è che si Si fa muovere Solo quando Tutte le candele Sono messe Oppure devo farla muovere Finché non cade Aspetta Fai la foto In varie posizioni Diverse della bara Io la faccio Dall'altro lato Devi trovare le candele Ti manca la candela blu? La blu E la verde Verde La blu E la verde No raga Buonanotte Vale Faccio di qua No la verde No ho messo la rossa Ho messo la rossa E la gialla Ho messo la rossa E la gialla Non è quella sotto gli angeli Quella è la gialla Non è la verde Tornare nello stanzino Dei anni E fai la foto Al 1951 Ah Dici Loc Aspetta 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 Fermi Magari abbiamo Una svolta Perché ho fatto La foto A quello davanti Nella cassaforte Che c'era E non si può aprire Non sappiamo il codice Candela Candela blu Grazie mille Quindi Anche questo Pazzo No 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 Ho sbagliato Ho sbagliato No No Mi cambia la stanza Aspetta 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 Sole Grazie per i due mesi Grazie mille Per i due mesotti Thank you so much Per il supporto Grazie mille Sole Fermi Fermi Potrebbe essere La svolta No raga Che cazzo Perché queste cose Alle 10 Alle 10 e 45 Mi sto cagando addosso Gioia Gioia posso confessarti Confessati con me Pronto mi scusi Jamsker raga Sono di nuovo io Padre Nancy Guarda Ce l'ho fatta Io finalmente Ce l'ho fatta Devi capire Era come Muovere Era come Vivere con un mostro No No Non mi ha mai amata Era un bugiardo Ha mentito a me Ha mentito a te Ha mentito a tutti Lui era un bugiardo Ha mentito a se stesso Cercato di fingere di non avere il passato che aveva Non era un vile Disgustoso Spreggevole Un pezzo di spazzatura Sai Voleva solo sposarmi Per sfuggire dai suoi crimini Sapeva che non poteva restare in Germania Sapeva che il suo passato stava venendo a prenderlo Lo sapeva Ha cercato di fingere che fosse tutto passato Ma non era sparito Lo inseguiva Lo perseguiva Mi perseguiva Padre Devi capire Era responsabile di una camera a gas Lui Ha preso così tante vite innocenti E le ha distrutte Chi può fare questo? C'era uno giorno in cui lo guardavo negli occhi E vedevo Un vuoto Il vuoto Niente che mi guardava Era già morto Ciao Manuel Solo Dio sa quante volte Aveva preso Non più Ho fatto in modo Aspetta Ho fatto in modo che non facesse più del male a nessuno Ho fatto in modo che soffrisse Quindi l'ha ucciso So che So che Dio mi perdonerà dei miei peccati Ciao lupo Ciao si Posso andare? Ma fa così tutto il tempo Ho sospirato insieme al personaggio Abbiamo sospirato insieme Nella camera Ragazza ci sta Vabbè Sì quando si caga Sì è la mia La mia cacca Che mi uccide Franci Ultimamente non ho più il tempo Di guardare la televisione Cazzo Io non lo trovo Non lo trovo Ho fatto Sono tornata indietro Di qua Di qua Scusate Allora è blu e gli angeli? Il blu per chi è raga? Gli angeli no? Oh Stai calmo Che mi sto cacando addosso No la stanza blu Non si vede un cazzo Minchia torno indietro Di continuo Ehi Lello Anarchi Grazie mille per i venti mesi Thank you Ciao Gloria Ciao Carmela È un piacere Un piacere seguirti per quel poco tempo A mia disposizione Facina che ride Dici Franci Dici Franci Grazie Anarchi Grazie mille Per tutto il supporto Sì effettivamente è giusto Però pensavo di poterlo fare anche da qua Scusate allora io qua non devo prendere una candela Devo prendere una candela Da qui Lady Grazie mille per il Prime Thank you Grazie davvero per il supporto Grazie raghi Grazie mille Pupà Benvenuta nella community dei copi Per il tuo primissimo mese in assoluto Grazie Un po' di supporto per Bab Mi sto cagando a tosse Mi sto cagando Lascia a fare Raga scusate Vedete candele Mi serve la candela verde Vedete candele Nel campanile qua E se faccio uscire la foto a lei Quella del lasso cod Dio sto grodando di buco Ah potrebbe essere qua No Giulia non la puoi aprire Oddio non lo so se ora la puoi aprire Devi aprire la porta Raga no vi prego È della donna Sì Perché si può aprire No raga è chiusa È chiusa Oh c'è un biglietto È qui Chi è qui Chi è qui Hai preso la gialla Nel 2022 La rossa E la ver La rossa Nel 1987 La blu Nel Eh ma ma Non l'ho presa la verde Bri Io non ce l'ho la verde Io ho la blu La gialla E quella che ho posato pure Che è la rossa Ma la verde non ce l'ho È qua Ok Ho tutto Me ne vado Me ne vado Me ne vado Mi ha graffiato È buono Porco il cazzo Quello non lo Non lo pensavo proprio Onestamente Gigio Ma zero Non pensavo Mi spuntasse là No Non me l'aspettavo Per niente Minchia Lela guarda Lascia fare Qui È una serie Di cacamento Di cacamento Che Allora Vado a posare la blu Sperando che nessuno Mi assalti addosso Mi voglio scappare No 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 Sto girando in tondo Olimpia No 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 È giusto È giusto Devo andare a mettere la blu Qui Calmo Calmo Eh lo so Baby Lo so Lo so Non voglio se lo so Che cazzo Di suoni sono Questi Ma perché Sparatevi In bocca Succedono Ste cose I cattivi Perché ho tirato Un colpo Un colpo Di botto Morti Perché i cattivi Devano avercela con me Dipendi fiato Si mi sto Cagando Allora Non va nel Gesù Cristo Non va negli angeli Va qua No Sbagliato Giusto No Giusto Oh no Mio cuore si è staccato Sì 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 Lupo Io completamente Morta Oh raga è che sono Affranta Eh sì Santi e angeli Giusto Lui che cosa rappresenta Oddio Cos'è Lui è anche il colore Dei santi È Dubbio 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 Amletico Angelo C'è un angelo E una specie di Dio Tipo Ci fa tiziano ancora svei Dovrebbe essere Dio Eh ma è giusto Vabbè Mettiamolo come è giusto Ok terra Allora Vabbè Lo diamo per Corretto Maria Che cazzo Di suoni Di merda Posto di merda Che gioco Di merda Ok trovate La verde sotto Gli angeli No Come la verde sotto Gli angeli Bella Zephyr Mo ti sa Sicuro Dedi Sicuro Guarda La verde La verde Qua La verde Manca solo La verde Madonna Senti questo Antonino Grazie Per le rose Senti come respira Chisso Sta venendo una polmonita Stai calmo Eh E mo Gesù Dio Angeli Allora Il verde Rappresenta La terra Lui dice Che il verde Rappresenta La terra Che dite E la madonna Eh no Ho capito Però questo La vita La vita Sulla terra Sì Lui dice La vita Sulla terra Cosa 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 Però Gli angeli Non fanno Parte Della Della Vita Sì Silas Perché I quadri Non sono Tutti Uguali Fai la foto Alla Già Fatto Già Fatto Eh Fotografa Lì Eh che Fotografo Non cambia Niente Prova A metterla Nel quadro Centrale Ma nel quadro Centrale Ci abbiamo Messo Già La blu Dici Che rappresenta La terra Pure Questo La vita Scusa È appoggiato A un globo Sì Potrebbe essere La terra È Gesù La vita Raga Ma se lui Dice che Gesù È Gesù Gli abbiamo Messo Quella Gialla No Gesù Gli abbiamo Messo Quella Rossa No ma La foto Dei quadri Non serve A nulla Ciao Forti Verdi Gli angeli Blu La madonna Ma non c'era La madonna Nel blu Forti E non c'è Il dio Nel giallo Merda Merda Gli angeli Posso provare Ma 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 Ah Ah È spiegato Era facile Bastava solo Metterlo E poi lui Sceglieva Se era giusto Ok ho capito Devo andare Devo andare A sistemare La rossa Perché la rossa Non è messa Giusta Lui non ha parlato Quando ho messo La cosa Buonanotte a tutti Ragazzi Buonanotte a chi va Pablito Io ho preso A te Non ansi mare Per favore Che già C'ho l'ansia Io Poi c'ho l'ansia E pure tu Ed è un casino Sì Devo andarlo A sistemare Perché lui Non ha mai parlato Mienga Chi sto È Un 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 Vicolo Ciego Ti odio Sto posto In merda Ok Che merda Di posto E mi son persa Di nuovo No Vabbè Ma il rosso È impossibile Raga Cioè minchia Il rosso Veramente Io sono Completamente Smarrita Nel rosso Ma di continuo E non si può Salvare Mammo Non si può Raga Non si può Salvare Vedi Non c'è Salvataggio Non esiste Salvataggio No Sto tornando indietro Minchia Com'è Io non so Dove andare Onestamente Mi siamo persi Ma come cazzo È possibile Vabbè Francia Stavamo tentando Tutti Minchia raga Non lo trovo Che palle Ma perché Non lo potevano Fare facile Già è difficile Trovare Le candele Poi pure Dovevi trovare La sala Devi trovare La sala Per trovare Le candele Ma vaffanculo Cazzo Di Eva Ma dammela Ma dammela facile Almeno Metterle Ma dammi facile Almeno una parte Niente 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 Sì raga L'ho capito Che sto girando Intorno Ma non trovo La strada Che cazzo Devo fare Non la trovo Non la trovo Non la trovo Oh eccola qua Ok Quindi Quindi Rosso è lei No Rosso è gli angeli Rosso è angeli Ciao Olli Grazie Forse nel 51 La devo mettere Eh io sono nel 51 Raga Io l'ho messa Arrossa alla madonna Devi andare Nell'altro anno Che due Coglione Maria Ma no Io Io ho paura Che appena esco Dal gioco Non me lo salva Sbagliato Scusate Io ho paura Che esco dal gioco E non mi salva La partita No Non è Gesù Non si è Non si è illuminato Memole Si illuminano Solo Se azzecchi Il Il punto Non si sono illuminati In tutti e tre Buonanotte Stefano Buonanotte a tutti Raga Ma io posso Posso continuarlo Domani Però ho paura Che non si salva Siren Perché la blu è messa Nel posto giusto Si mette Ansia Ma non è tanto L'ansia È proprio Il fatto Che Che mi sto Rincoglionendo Capito Io sono Nell'87 Perché devo Mettere Nel 51 Perché è l'anno Della Crucifissione Blu Giallo Le altre due Nel cinese Quale le altre due Magari verde e blu Devi mettere Non lo so È proprio qua Minchia però Questa parte È Allucinante Cioè io solo un'ora Qua la sto perdendo Solo un'ora Per fare sta cosa È allucinante Procifissione Giusto Sì Eh Mancano La Manca la gialla Eh Manca la gialla E la E la Gialla è dio La verde è accesa La rossa è accesa Manca la blu E la gialla La blu E la gialla Gialla è San Paolo Il tizio che c'era lì E la gialla no no ciao mamma buonanotte no 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 per me il gioco finisce qua no no per me il gioco il metroport il metroport